E' stato sottoscritto tra il Comune di Crotone e l'Azienda Sanitaria Provinciale un protocollo di intesa in materia di famiglie affidatari ed accoglienti. Lo comunica l'assessore alle politiche sociali Filippo Linsi. A sottoscrivere l'atto, il sindaco Vincenzo Voce e il commissario straordinario ASP Simona Carbona. Il protocollo, come spiega l'assessore Pollinsi, si propone quale mezzo di cooperazione per l'attuazione delle funzioni sociosanitarie e si configura come uno strumento efficace per la gestione coordinata ed integrata dei servizi in tema di affidamento familiare e finalizzata a tutelare minori la cui famiglia si trova in difficoltà e che necessitano di essere accolti da famiglie in grado di offrire modelli validi ed esperienze affettive positive. Le prestazioni previste sono rivolte a minori italiani e stranieri a rischio di abbandono e devianza, appartenenti a famiglie in condizioni di grave disagio socioambientale o a famiglie le cui capacità genitoriali risultino compromesse e tali da incidere sul normale sviluppo psicofisico del minore. All'impegno sottoscritto con il protocollo verrà data attuazione operativa attraverso l'utilizzo dei servizi facenti parte dell'area minori ed in particolare degli operatori del centro affidi dell'ambito sociale di Crotone, dei servizi sociali dei comuni dell'ambito e dell'azienda sanitaria provinciale, nonché degli enti del terzo settore che abbiano una comprovata esperienza. Grazie all'approvazione lo scorso anno del piano di zona dell'ambito sociale, un risultato storico possiamo sostenere ad ampio raggio iniziative che possono rispondere alla domanda di bisogno che nasce dal nostro territorio. Nel caso specifico possiamo mettere in campo interventi finalizzati a garantire ai minori il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurare un adeguato sviluppo psicofisico e relazionale, dichiara l'assessore Pollinzi.